ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina oggi vi mostro come preparare una crema alle mandorle gli ingredienti che ci occorreranno sono 50 grammi di burro morbido un uovo 50 grammi di zucchero a velo 10 grammi di farina doppio zero 50 grammi di farina di mandorle e un pizzico di sale trasferisco il burro all'interno di una ciotola con le fruste vado a rendere il burro come una crema adesso aggiungo lo zucchero a velo adesso aggiungo la farina di mandorle lo lavoro con la spatola aggiungo il pizzico di sale giusto un pochino per esaltare il sapore aggiungo la farina lavoro sempre con la marisa e per ultimo metto l'uovo metto l'uovo e lo lavoro di nuovo con le feste e la crema alle mandorle è pronta vedete questa è la consistenza che dobbiamo ottenere e la mia crema alle mandorle è pronta adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate se la volete più densa vi basterà tenerla per un 15 20 minuti all'interno del frigorifero che cosa ne pensate se la volete più densa e se la volete più densa